In seguito all'emergenza incendia arriva il divieto assoluto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, di spari, di petardi ed uso di barbe chuinare non attrezzate da parte del Comune dell'Aquila. Anche in caso di utilizzo di barbe chuinare idonea bisognerà osservare alcuni accorgimenti. Sono queste solo alcune delle nuove prescrizioni contenute nell'ordinanza che il Sindaco Pierluigi Biondi ha firmato con l'obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione degli incendi. Il provvedimento tra l'altro prevede l'inibizione all'accensione di fuochi per bruciare stoppie e residui di vegetazione e conferma i contenuti della precedente ordinanza del 20 giugno scorso riguardo l'igiene urbana ed ambientale con la quale era stato disposto che i proprietari e i conduttori di terreni dovessero ripulire rovi e sterpaglie per una fascia di almeno 3 metri dalle strade pubbliche e dalle scarpate. Il testo completo del provvedimento, che contiene in dettaglio tutte le prescrizioni e i divieti, è pubblicato su provvedimenti, organi di indirizzo politico, nell'area amministrazione trasparente del sito del Comune dell'Aquila www.comune.l'aquila.it.